E allora la storia numero uno, eccola qua. Parto da questa storia non casualmente, quella di un mio amico, ma anche un grande atleta del nostro paese, si chiama Nicolo Campriani, un atleta che nella sua disciplina, nel tiro a segno, ha portato all'Italia un numero pazzesco di medaglie, soprattutto olimpiche. Ha scritto un libro meraviglioso, si intitola Ricordati di dimenticare la paura, suona profetico in queste ore, che mi ha voluto regalare qualche tempo fa con una dedica che oggi mi emoziona ancora di più. Mi ha scritto, la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Balliamo insieme, con affetto, Nicolo. Io voglio ballare insieme a Nicolo e insieme a voi, se avete piacere di seguire queste storie. E nel prologo di questo libro meraviglioso, che naturalmente vi invito a leggere, Nicolo racconta della gara di qualifica, quella che l'avrebbe portato alla finale della sua Olimpia di Pechino 2008, quella dove era certo di vincere. Racconta di tante difficoltà di questo cuore che batte all'impazzata, 160-180 battiti al minuto. Il corpo diventa una specie di gran cassa, amplifica questo battito cardiaco che fa sì che addirittura il braccio che legge la carabina si muova. E dice Nicolo, il bersaglio si muove. Quando io vedo passare il bersaglio dentro al merino, tocco il grilletto e tutto va perfettamente bene. Sembra destino, centri perfetti per 59 volte consecutive. Poi arriva l'ultimo colpo, quello che lo porterà o meno in finale. E Nicolo lo descrive così. Due monete da un centesimo, una sopra l'alta creano uno spessore di 3,34 mm. Ecco, 3 mm e 34, esattamente la distanza fra il mio ultimo colpo e il centro del bersaglio. Nella vita normale è niente. Nel tiro a segno la differenza che passa fra un 10 e un 8. È la misura del mio fallimento. Ho sbagliato. Dopo 59 colpi perfetti sono fuori dalle Olimpiadi, tradito dal mio cuore, eliminato. Tutto è perduto per due centesimi. Questa è la pedana, quella a terra è la mia carabina e quel ragazzo con la faccia fra le mani sono io. Quel ragazzo con la faccia fra le mani si chiama Nicolo Campiani e si rialzerà e scriverà una delle pagine più incredibili della storia del nostro paese.